Siamo insieme a Luciano del comitato notab terzo valico di Alessandria, insieme al suo bimbo. La manifestazione di oggi è una manifestazione molto partecipata anche da Alessandria, sono tante le persone che hanno scelto di aderire appunto alla giornata di oggi. Perché si parla di un terzo valico che non riguarda solo i territori di Arquata e Novi Ligure, ma perché appunto anche tutta la provincia di Alessandria è interessata da quest'opera. Assolutamente bene, soprattutto questa è l'occasione per persone anche normali e comuni di dire no di fronte alla creazione del territorio, delle persone, dell'ambiente. Io ho questi bambini qua, i miei figli, voglio insegnarli che bisogna avere la dignità di non cedere finanziare all'istituzione di Arquata, che ci viene proposta tutti i giorni. Quindi, guarda un po', questo è uno spettacolo, staccato per chi non è venuto, ciao.